Grazie a tutti La proposta dei cari alla seconda edizione credo che è un risultato notevole Noi di più di questo non è che pretendevamo Vice sindaco della città di Arco Alessandro Betta in maschera oggi al carnevale Sì cercavo di andare un po' più in incognito ma mi hanno beccato Sono contento di essere qua Carnevale di Arco per la visione che ho cercato di dare e di parlare con gli organizzatori Mario Matteotti in primis La festa dei bambini ed è quello che è oggi La festa dei bambini Finalmente il carnevale sta ripartendo È iniziato l'anno scorso Ci sono anch'io per dare testimonianza di questo Insomma è una giornata in cui mettersi in gioco tutti Una grande festa Io penso soprattutto ai bambini e ai giovani E poi insomma anche agli adulti Un po' che in una giornata come questa Dalle cariche istituzionali O gli impegni che ogni giorno ci portano via Un po' una visione diversa dai Anche di allegria Un po' di 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 un